Mancano anche le siringhe, oltre a dispositivi sanitari e alcuni farmaci. La denuncia arriva dai diversi reparti del Policlinico di Foggia che tornerebbero ad avere grandi difficoltà nel trattamento dei pazienti ricoverati a causa proprio della carenza dei dispositivi. Secondo quanto riferito alla nostra redazione da parte degli operatori ospedalieri, le richieste di approvvigionamento del materiale inviato alla farmacia del Policlinico, come per esempio le siringhe, sarebbe bocciata a causa della mancanza di materiale. Un allarme che torna dopo diverse settimane, quando a creare le difficoltà al personale ospedaliero, fu il MOS, il nuovo sistema di monitoraggio della spesa sanitaria che mandò completamente in tilt i reparti. Ma oggi pare che il problema non sia collegabile al nuovo meccanismo ed anzi, secondo le segnalazioni, le criticità sarebbero legate alla mancanza dei dispositivi. Contattata la farmacia ospedaliera, la responsabile evidenzia alla nostra redazione la necessità di rispettare la proprietà delle richieste. In soldoni i reparti, prima di inviare un nuovo ordine, dovrebbero terminare le scorte. Secondo la responsabile della farmacia, infatti, molti reparti avrebbero enormi giacenze di materiale richiesto. Per questo motivo dalla farmacia ne dispenserebbero quantità minime e comunque inferiori a quelle richieste. Inoltre, l'altro problema che resta sarebbe legato all'uso del nuovo meccanismo MOS che, secondo la responsabile della farmacia, sarebbe ancora un problema per qualche operatore ospedaliero. Per quanto riguarda le siringhe, invece, la responsabile della farmacia evidenzia che ci sarebbe un ritardo della ditta, ma che in ogni caso ai reparti sarebbero garantite le richieste e per sopperire alla carenza si invierebbero siringhe senza ago con a parte l'ago. Quello della proprietà dei farmaci e dei dispositivi è una norma seguita già da tempo, ma oggi richiede una maggiore attenzione a causa proprio dell'enorme deficit che vive la sanità regionale. Inoltre, dopo il covid, la farmacia del policlinico si procurerebbe le scorte trimestrali invece che mensili e con quantità maggiori. Dunque, secondo la responsabile della farmacia dell'ospedale Foggiano, nessun problema ci sarebbe nei reparti ed anzi, chiarisce che chiunque sia preposto agli ordini e dovesse riscontrare difficoltà può rivolgersi direttamente alla responsabile e cercare la soluzione del problema. Grazie. 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 Grazie.